Non ci aspettavamo dalla formazione rosa nero, una partita dove il Palermo era convinto di vincere e questa convinzione evidentemente veramente non è servita. Sembrerebbe quasi come se il Palermo avesse sottovalutato l'avversario. È stata una partita legata e determinata da episodi che stupidamente hanno compromesso una partita che poi è stata immeritatamente persa se guardiamo il primo tempo. Ma nel secondo tempo non c'è stato nulla. La squadra era sicuramente più forte quindi comunque è assurdo, però le cose succedono. Il Palermo come diceva Eliana non molla mai quindi speriamo che questa sconfitta porti nella mentalità dei giocatori ancora più forza per andare avanti. La squadra dopo le cadute si deve allenare, si deve rimettere in sesto per affrontare al meglio le prossime partite perché il campionato non è mica finito ma siamo ancora all'inizio. I fischi non siano indirizzati ai giocatori ma a Corini perché i giocatori ci sono, fanno il loro dovere ma le scelte che fa questo allenatore per me sono molto discutibili. Il portiere deve parare, l'attaccante deve segnare, questo hanno fatto quelli dell'Ecco. Il Palermo può fare solo i complimenti alla squadra dell'Ecco che ha studiato e si è comportata perfettamente per come si doveva comportare. Il Palermo no, non è stata squadra oggi, c'è stata molta confusione, poca concretezza quindi io non voglio neanche dare colpa a Corini ma tutti i giocatori, tutti l'allenatore quindi avete da tornare a casa, pensare, lavorare ancora di più perché non possiamo permetterci questi risultati e questa classifica.